adesso ti mostrerà come creare delle forme diverse devi aprire la mano sinistra molto bene e scegliere il tipo di forma che ti piace e prova a fare uno più piccolo e ne prova a cambiare forma adesso prova la terza forma bravissima grande fare un po' più piccolo adesso prova a fare un po' di spazio bravissima di nuovo guarda il piccolo robot e fai i pollici su un po' più piccolo bravissima di nuovo guarda il piccolo bravissima di nuovo guarda il piccolo Grazie a tutti. Grazie a tutti.